Ed è iniziata questa sera la manifestazione Cilin Love organizzata dall'associazione Cilinola Produce al cui capo fa la presidenza del consigliere comunale Vincenzo Specchio. L'attività dell'associazione è stata quella di rendere valore al Borgo Antico attraverso manifestazioni enogastronomiche, percorsi culturali e culinari e manifestazioni a carattere musicale. Oltre agli svariati artisti di strada che si sono presentati in questa prima sera di inaugurazione c'è anche il gruppo corale dell'Istituto Comprensivo della Scuola Media Paolillo che si sta esibendo nella chiesa madre. Tanta la partecipazione da parte dell'amministrazione comunale e soprattutto dei concittadini che hanno reso possibile tale manifestazione. La presenza di commercianti locali valorizza maggiormente l'economia di una cerignola che desidera attraverso queste manifestazioni rilanciare anzitutto un Borgo Antico che è venuto meno in questi anni, ma soprattutto desidera dare il giusto lustro a quanto si è fatto per Cerignola in una ricorrenza che è assai particolare, quella che vede le coppie di tutta Cerignola unite dalla magica atmosfera del Borgo Antico insieme a un buon piatto e della buona musica.